Run like hell Nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori in onda a mercoledì 24 aprile alle 21 su ON TV Web Nostra ospite Monica Robotta protagonista del WEC negli anni passati e quest'anno protagonista invece del campionato italiano a velocità femminile dove a Misano ad inizio aprile ha ottenuto uno splendido secondo posto Insieme a lei scopriremo quali sono i suoi obiettivi per la stagione futura e da cosa è nata la sua passione e soprattutto cosa significa correre all'interno di un campionato totalmente dedicato al mondo femminile Con le donne ho visto che c'è la competizione, quella sana, quella dove ci si prende anche a sportellate però è sempre rispettosa In onda a mercoledì 24 aprile alle 21 su ON TV Web